Belen Rodriguez, nota per i suoi colpi di scena, ha recentemente sorpreso ancora. Lontana dall'Italia, nelle idilliache Maldive, ha vissuto momenti indimenticabili con il suo nuovo compagno, Elio Lorenzoni. La loro relazione è sbocciata in modo inaspettato, segnando una svolta significativa nella vita di Belen. Ma cosa ha scatenato questo nuovo clamore? Dopo aver affrontato un periodo difficile, segnato dalla fine della sua relazione con Stefano De Martino, Belen sembrava cercare serenità. E in questo scenario paradisiaco, un evento ha cambiato tutto. Non si tratta di una semplice vacanza, ma di un momento che definirà il suo futuro. L'indizio? Un post su Instagram che lascia trasparire più di quanto si immagini. Al centro di questo nuovo capitolo c'è una proposta, un anello e una risposta affermativa. Belen ha dettosi alla proposta di matrimonio di Elio. Ma prima di potersi immergere pienamente in questa nuova felicità, Belen deve affrontare una situazione complessa. La separazione legale e il divorzio da Stefano De Martino. Un passo necessario per poter iniziare una nuova vita con Elio. Mentre migliaia di fan reagiscono con entusiasmo a questo scoop, altri ancora sperano in un ritorno con Stefano. Una cosa è certa, la vita di Belen è ancora una volta al centro dell'attenzione, e non finisce mai di stupirci. Ciao! Ciao!